come il figlio sta sulla croce così la madre sta ai piedi della croce la cosa più difficile non è fare la cosa più difficile non è muoversi la cosa più difficile è stare al proprio posto stare lo lì dove siamo chiamati a stare stare in modo stabile e dare la testimonianza di fedeltà se Maria sta ai piedi della croce e perché trova l'infa vitale dall'albero della croce ed è questo che la rende madre così vale per ciascuno di noi non potremmo mai essere feconti nella vita non potremmo mai generare figli se noi non stiamo ai piedi della linfa vitale che è la croce solo lì la nostra vita può fiorire e portare frutti di vita eterna buona missio